allora oggi non voglio parlare della partita dell'andata che abbiamo sbagliato tutto e l'eliminazione arrivata lì alla fine voglio solo fare un complimento un grandissimo complimento a tutta la squadra a tutti i giocatori forse fossi stato un allegri anche se comunque ha fatto una perfetta partita avrei fatto un cambio un po prima perché non ce la facevamo più a tenere sul pallone vorrei fare veramente un complimento a loro vorrei dire solo che questi spagnoli sono dei figli di puttana di prima categoria adesso potete dirmi il rigore il non rigore c'era non c'era nel dubbio a loro glielo danno sempre contro il Bayern Monaco nel 2016 sei episodi tra andate e ritorno e non dubbi netti contro la Juventus va bene contro la Juventus sempre oggi adesso non è per attaccarmi all'arbitro che sia chiaro però ogni volta nel dubbio soprattutto a Madrid a Barcellona e a Monaco di Baviera nel dubbio favoriscono queste tre squadre di merda questo è non ditemi eh adesso vedi che in Italia in Italia la Juventus ha 17 episodi a sfavore e 4 a favore col VAR utilizzato di merda in Italia quindi non rompetemi i coglioni perché a fine anno vi porto tutto il dossier e ve lo ficate su per il culo va bene perfetto detto questo a questi pezzi di merda di arbitri Buffon è stato espulso gli avrà detto qualcosa questi qua sono i classici arbitri ai quali io darei una testata sui denti perché sono i classici arbitri arroganti una maniera schifosa di merda e l'Uefa fa sempre di più cagare ok cagare perché ripeto nel dubbio nel dubbio quel rigore lì a parte invertite in area di rigore del Real Madrid non l'avrebbero mai fischiato mai e ci sono un casino di prove un casino di prove sembrava che l'arbitro aspettasse aspettasse solo un episodio del genere per dare il rigore al Real Madrid e non farsi supplementari perché probabilmente era stanco no non fa un cazzo dalla mattina alla sera è stanco prende miliardi prende 50 mila euro partita è stanco dio povero è una cosa veramente vergognosa niente ragazzi io non posso fare altro che fare i complimenti alla squadra qualche demerito c'è oggi abbiamo lasciato un po troppo spazio troppi spazi al prima del rigore perché lì Benatia ha sbagliato comunque perché Benatia se teneva la posizione e scalava come è scalato il nostro difensore non mi ricordo se fosse Chiellini proprio su Ronaldo se non sbaglio se scalava sul suo giocatore che marcava probabilmente adesso saremmo stati supplementari a 30 secondi alla fine questo è l'emblema che alla fine questa coppa quando dico non prendetela come un'ossessione è così questa coppa per un fattore per l'altro adesso molti diranno però oggi la supremazia del Real Madrid non si è vista giustamente nel doppio confronto l'ho sempre detto che non si vede però vedete anche la fredezza di Cristiano Ronaldo su rigore al 94esimo è stata micidiale i nostri sarebbero cagati ad osso secondo me e rischiavano di sbagliarlo l'ultimo comunque per la partita di oggi non possono rimproverare nulla anche se ho criticato in live Mandzukic però poi ha fatto doppietta quindi dovrei criticare di più i giocatori così segnano il problema comunque nostro visto e continuo a ripetirlo è a centrocampo nel senso che manca qualità ma quindi è un grande recupero a pallone però quando ha il pallone non sa che cazzo fare Chedira si inserisce molto bene però non affonda mai la difesa avversaria Pjanic è molto bravo qualitativamente delta molto bene i tempi verticalizza a 10 metri se tutto va bene ma mai mette l'attaccante davanti al al portiere da solo diciamo che si uscire così può anche fare più male ok però io sapevo io me la sentivo 1 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 3 me la sentivo che qualcosa sarebbe successo qualcosa sarebbe successo perché ci deve andare storto dispiace che l'ultima partita di Champions di Gigi sia finita con l'espulsione dispiace incontrare perché poi critichiamo giustamente i nostri arbitri del cazzo in Italia però dispiace comunque vedere che in Europa arbitrano certi individui perché comunque all'andata ci hanno ammonito Dybala per simulazione giusta oggi Cristiano Ronaldo ha simulato tipo 3 4 volte mai ammonito è immune lui è immune però va bene lui è sempre immune poi a volte gli danno anche rigori o espulsioni all'avversario che non ci sono come quella di Chiellini qualche anno fa niente io oggi sono volevo una prova di forza nel senso che anche se uscivamo volevo vedere non volevo vedere una squadra uscire con le ossa rotte e questo è successo nel senso che non siamo usciti con le ossa rotte siamo usciti non dico a testa alta perché è un termine che usano altri non me ne frega un cazzo però abbiamo ridotto il non il gap ovviamente ma abbiamo ridotto i danni questo sicuramente prende rigore il 93esimo ragazzi ripeto a Madrid si può a Monaco di Baviera si può e a Barcellona si può quindi assolutamente non io non dico che passando oggi perché molti passando oggi potevamo vincerla davvero assolutamente non dico questo però sai sapete cioè escono i due spagnoli quarti Juventus e Bayern Monaco secondo me comunque il Bayern Monaco rimaneva la favorita ed era comunque della Champions League ripeto non mi interesso più perché comunque alla fine nel momento cruciale abbiamo visto oggi al 93esimo la sorte ci va contro sia perché va beh ma anche perché ce le cerchiamo perché è vero che è stata una partita impeccabile sulla preparazione in sé della partita però Allegri comunque secondo me ha sbagliato non fare i cambi prima non puoi pensare ai supplementari quindi il cambio te lo lasci per i supplementari se poi ai supplementari non ci arrivi tanto ok ma come poteva prevedere di che avessero che avrebbero fischiato un rigore al Real Madrid vero però il Real Madrid ha fatto tre cambi se ne sono sbattuti il cazzo loro cioè se un giocatore mentre all'ottantesimo non riesce a fare mezz'ora dopo ragazzi vado a fare vado a giocare non so vado a giocare a briscola qualsiasi altro gioco a tavolo ma non di certo a calcio o qualsiasi altro sport insomma così così è andata adesso spero che questa incazzatura che avranno per questa eliminazione io sono sempre dell'idea che quando si viene eliminati si viene eliminato immediatamente perché qualcosa probabilmente è mancato e sono dell'idea di questa idea anche oggi perché poi non abbiamo la certezza che avremmo comunque vinto nei supplementari sia chiaro magari potevamo prendere dopo il gol però però poi comunque avreste avuto un po di più di un po più di tempo per fare il quarto volendo però a parte questo con i secoli in mano si fa un cazzo questo è e niente ieri la Roma ha fatto un'impresa noi ci ci serviva un miracolo siamo andati vicini vicinissimi perché ripeto come ho fatto i complimenti alla Roma la Juventus oggi aveva veramente una cosa molto più difficile perché comunque vincere 3 a 1 al Bernabeu Real Madrid non perdeva da 18 partite consecutivi in Champions League è una magra consolazione lo so lo so però comunque sta a significare che oggi non usciamo con le ossa lotta almeno quello detto questo io ripeto spero che questa cattiveria che avranno incazzatura perché adesso voglio che questo campionato si chiuda definitivamente voglio che voi entriate in campo come siete entrate oggi a Bernabeu sempre ogni cazzo di partita Sampdoria Crotone Napoli tutte le altre partite che arrivano dopo l'Inter Bologna Roma adesso non mi ricordo poi non mi ricordo l'ultima vabbè tutte le partite le voglio così con questa cattiveria perché se voi entrate giocando da Juventus in campo ok non ce n'è per nessuna e non per nessuno e non avrebbero neanche un minimo di illusione questi qui capite quello è perché la Juventus può e deve chiudere il discorso campionato fine adesso voglio che questa cosa questa eliminazione non pesi psicologicamente negativamente ma positivamente voglio vedere adesso tutti incazzati neri in campo sempre e comunque contro qualsiasi avversario dalle 7 di campionato alla finale di Coppa Italia sempre contro tutti in questa maniera qui perfetto non aggiungo altro oggi sono veramente orgoglioso di voi dei complimenti non me ne faccio un cazzo perché sapete che noi guardiamo i trofei questa eliminazione non se le ricorderà nessuno anche se abbiamo fatto benissimo al Bernabeu cosa che io personalmente non mi sarei mai immaginato sinceramente ci sono stati degli errori soprattutto l'andata ripeto però oggi veramente sono orgoglioso di voi un applauso anche chi è andato a Madrid a sostenerli non ci credevo l'ho detto non ci credevo e no non ci credevo adesso non dico ecco vedete che avevo ragione no non ci credevo perché non pensavo neanche di finire il primo tempo sullo 0 a 2 sia chiaro e anche se siamo usciti posso dirlo tranquillamente Allegri mi ha smentito nel senso che poi ha sbagliato qualcosa dopo però nel complesso la partita Allegri e la squadra mi hanno smentito c'è comunque molto da lavorare sia in società sia come allenatore sia come giocatore però detto questo ragazzi oggi più di così potevamo fare sì potevamo passare il turno potevamo avere un po' di concentrazione in più fino alla fine quello che è mancata a Benatia secondo me sull'azione del rigore che ripeto ci può essere non ci può essere quello che volete però nel dubbio a loro gli ridaranno sempre a noi mai in Europa parlo non noi Juventus ma parlo anche di squadre italiane sia chiaro in generale e non me ne frego un cazzo delle altre squadre italiane sapete che ci tifo contro però è così anche ieri la Roma aveva subito un rigore netto che se la non lo dai viene giù lo stadio giustamente e non è stato esposto piqué quindi tanto per dirvi vabbè niente buonanotte a tutti e sempre sempre fino al fine forza Juventus